benvenuti amici di mondotv24.it amici della cometa radio e continuiamo il nostro mix di interviste però oggi è la più grande che facciamo non abbiamo mai fatto un'intervista così abbiamo intervistato tanti artisti tanti cantanti però mai un maestro così forse uno delle icone no forse uno delle icone della musica italiana da 55 anni sui palchi di tutto il mondo il maestro robbie facchinetti buongiorno maestro come come va buongiorno buongiorno a voi ciao ciao diamoci del tuo diamoci del tuo come va pandemia questa pandemia ci costringe ai distanziamenti no cerchiamo di avvicinarci attraverso le parole ma cosa dici come va bene sono mi trovo a lanciano perché due giorni che stiamo provando perché dopo domani abbiamo il debutto di questo tour tanto tanto atteso per cui siamo un po sulle sulle spine e un po anche di corsa dopo 55 anni dove si trova la forza di tornare sul palco sempre con nuove motivazioni e fare dei nuovi singoli come il bellissimo che uscita il 18 giugno l'ultima parola che era dedicato al parolire del puo valerone grini e però poi giustamente si associa alla morte di stefano d'orazio beh la forza si trova attraverso la musica perché poi è sempre lei che comandano se non sei tu a da a cercarla e lei no che bussa e che ti cerca e quando bussa la musica bisogna sempre assolutamente rispondere è quello che io fa con una rinolo le telefonate che siamo in skype purtroppo si interrompe e poi come dicevi tu questo singolo che è uscito da decina di giorni è l'ultima parola che quando scrissi la musica che mai stefano e gli disse sempre stefano questa musica che mi piacerebbe che parlasse dell'ultima parola l'ultima parola però attraverso così un testo d'amore no di 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 questi rapporti che purtroppo succede che che finiscono anche se sono importanti però finiscono male e ce ne sono veramente tantissimi io nella mia vita ci sono capitato anch'io a vivere ed è veramente un vero peccato perché soprattutto quando i rapporti sono importanti mi chiamo stefano dopo un giorno c'era messo guarda io ho lasciato il titolo l'ultima parola però mi sono sentito di dedicare questo testo a valerio perché se lo merita perché è dovuto io ho detto stefano ha avuto un'idea veramente straordinaria me lo leggi e iniziò a leggere e credimi non arrivò alla seconda riga perché si mise a piangere io figurati subito dopo o quasi contemporaneamente perché in effetti come dire era molto forte l'emozione poi mi aveva detto ma mi aveva fatto quel discorso lì nei confronti di valerio e ho pensato subito che fosse veramente una cosa giusta bella dovuta di grande grande generosità da parte sua ma oggi certo questo brano assume un significato diverso quando io penso che stefano inconsapevolmente aveva scritto questo testo non solo per valerio ma anche per lui e guarda questa mattina lo abbiamo lo abbiamo provato con la colabente quel brano e non è assolutamente facile per me cantarlo e non sarà facile cantarlo cantarlo dal vivo per per tutti i significati che si porta inevitabilmente dietro questo questo brano beh insomma diciamo che la vita quando ci si mette no ehm l'ironia anche il no il dolore che 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 può provocare certe situazioni tipo questa e ha dell'incredibile ma purtroppo è così purtroppo così eh sei abituato a queste cose perché io penso che in tutta la discografia deput c'è sempre un momento che parla della vita vostra di tutti i componenti specialmente tua che hai scritto per la maggior parte dei brani io penso che è curioso come in tutti i brani si rispecchi un pezzo di vita che è passato no perché io lo io lo noto anche da tanti brani che ci che forse è una cosa mistica però accade sempre qualcosa si associa sempre a qualche evento nei brani che che hai fatto che hai scritto ma guarda il devo dire che merito è di valerio soprattutto ma anche di Stefano abbiamo sempre raccontato eh nei nostri brani la realtà la realtà della vita di tutti i giorni per cui la vita ha delle staccettature straordinarie bellissime ma anche delle staccettature diverse che sono sicuramente meno meno felici e addirittura altrettanto no addirittura al contrario sì noi abbiamo anche e questo ripeto valerio è stato veramente un vero poeta con delle intuizioni perché lui scrisse addirittura di di omosessualità nel 77 con pierre abbiamo scritto eh negli anni alla fine degli anni ehm 90 abbiamo parlato di di migrazione quando eh eravamo veramente all'inizio ancora non si avvertiva esattamente quello che sarebbe poi ahm accaduto abbiamo parlato di ecologia abbiamo parlato di personaggi mitologici insomma non c'è un argomento che i pu non abbiano ehm toccato sfiorato e addirittura anche approfondito senza parlare del dell'universo femminile che ehm abbiamo veramente raccontato in tutte in tutte le sfaccettature e poi con una produzione anche importante perché comunque abbiamo inciso oltre 40 album quasi 400 a brani incisi per cui abbiamo raccontato veramente veramente tanto 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 e di più e quel e soprattutto la vita la vita perché noi eh siamo stati una band che ha ha comunque vissuto in mezzo in mezzo alla gente abbiamo fatto oltre 3 mila tu pensa 3 mila concerti 12 13 mila ore di musica su un palcoscenico che è un record ma non solo italiano anche a livello internazionale per cui la nostra vita è stata veramente ricca ricca di di ripeto di vita di esperienze di tournée e poi non ultimo forse una cosa più importante l'esperienza di vita nostra che io dico sempre lo ripeto è stata l'esperienza umana dei pu ritengo che sia molto più stata molto più importante rispetto a quella musicale perché è più importante perché se non ci fosse stata quella eh i pu non avrebbero sicuramente eh fatto quello che hanno fatto e ancora di più portato la loro storia a 50 anni eh di di carriere di vita che è un veramente che ha del miracoloso io ancora eh no no non riesco a crederci eh non riesco neanche a crederci che che abbiamo fatto tutto tutto quello che abbiamo fatto e devo dire che adesso eh per altre ragioni riesco a a vivere il nostro eh vissuto da un po' da distaccato e ogni tanto migliorare possibile che i pu che noi abbiamo fatto tutto questa eppure l'abbiamo fatto e certo abbiamo sacrificato la nostra vita abbiamo sacrificando eh hai sacrificato hanno dedicato la nostra vita completamente la nostra vita alla band e alla nostra storia sacrificando le famiglie i figli eh perché altrimenti non non avremmo fatto tutto quello che abbiamo messo insieme tutto quello che abbiamo fatto io sono stato a tanti concerti ne ho visti tantissimi l'ultimo a Bologna ho visitato i concerti dei pu sono un amante dei pu e e quello che mi sorprende è l'amore che ancora adesso vi segue cioè voi avete ognuno quando io vado a tutti i concerti anche singoli che fate Robby do di tutti tutti i concerti singoli che è e vedo l'amore vedo sempre la sua gente io non c'è mai che non trovo quelle cinquanta sante persone che sono sempre lì davanti e vi seguono quindi quello che quello che è stato creato rimarrà per sempre e lo vedete anche nei concerti adesso che tutti gli appuntamenti Robby che farai tutta quella gente sarà sempre lì sempre prima vila e sempre a sostenerti questo è un grande atto beh questo eh quello che dico sempre questo è le il nostro patrimonio vero no è rappresentato dal nostro pubblico che abbiamo sempre cercato di non deluderlo ehm è la dimostrazione che continuano come dici tu a seguirci guarda eh mi sto accorgendo che sotto certi aspetti e non aspetto l'amore di questo pubblico e affetto nei nostri confronti forse è addirittura di più rispetto prima perché abbiamo concluso la nostra eh no la nostra straordinaria e meravigliosa avventura e eh e questo non esserci più ha fatto sì che ha ha impreziosito ancora di più la 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 nostra storia lo stiamo vedendo eh continuamente con un'operazione che abbiamo fatto pochissimi due mesi fa con la Mondadori questa operazione eh di catalogo che ha avuto dei numeri veramente impensabili ma proprio grazie a a quello che dicevo appunto prima eh addirittura ehm c'è un pubblico che stiamo acquisendo eh di giovani e meno giovani che magari eh non hanno comparato tutta la nostra collezione che adesso però la vogliono avere completa e la stanno completando e guarda durante se tu sei stato al al nostro ultimo concerto ehm della riunio io ogni sera dicevo che il nostro sogno sarebbe che eh la nostra musica potesse continuare a vivere anche senza di noi ecco questo sogno si sta veramente realizzando eh come come lo lo come lo abbiamo pensato come l'ho pensato e questo beh insomma non si può chiedere assolutamente di più da 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 una vita dal nostro lavoro e soprattutto dal nostro pubblico che che come dicevi tu insomma è continua comunque essere presente come prima e forse più di prima eh Robby io ti ringrazio ti lascio andare io faccio un'ultima domanda velocissima e abbiamo finito perché è una curiosità mia quindi non posso non fartela poi non so quanto ci risentiremo ma passa un giorno che non ti chiedono se se mai ci potrebbe essere una riunione dei pu magari per i 55 anni non lo so c'è un giorno che non te lo chiedono no non c'è un giorno certo che tutti vorrebbero però eh io dico sempre i pu non esistono più eh già eh quando se ne andò varie negrini che era rappresenta e continua a rappresentare il fondatore dei pu senza di lui io non sarei qui a a parlare con te i pu non sarebbero mai esistiti e poi per quello che ha scritto lui era veramente no con Stefano l'anima l'anima eh poetica è quello che ha dato vita eh e parole alle nostre melodie e Stefano Stefano vabbè ancora non riesco a crederci che non ci sia più eh come si potrebbe immaginare io ho amato quei pli di quelle immagini con quelle persone con quei personaggi eh come dire chiedere a una costruzione importante a un grattacielo no di stare su senza senza due pilastri importanti e non non e poi siamo stati così perché io aggiungo anche il lato fortunato perché nella vita ci vuole talento e una buona dose di fortuna no che poi vabbè poi dicono beh però la fortuna mi ha aiutata metterla come te pare però insomma eh eh ci deve essere anche una buona dose abbiamo avuto una vita come dicevo prima riduttivo a dire fortunata abbiamo concluso no con la riunio richiamando sul palco dopo sette anni Stefano e dopo 43 anni eh Riccardo e fu un finale abbiamo detto al mondo che quello era l'ultima fotografia e noi dobbiamo rispettare questa cosa questa nostra promessa ancora di più oggi perché perché non ci sono non esistono più c'è eh ed è impossibile immaginare di inserire sul palco senza Stefano e senza sapere che in mezzo al pubblico c'è anche varione grini ehm mi è veramente molto molto in difficile molto difficile ricordiamo i tu per quello che hanno fatto attraverso la loro musica che come hai detto tu ehm le cose rimarrà sicuramente immortale. Va bene Robby grazie io lascio l'appuntamento a chi vuole venite a vedere perché il concerti live ancora di tutti i post accati a parlo di Robby in questo momento di Dodi di Red sono imperdibili con delle band pazzesche quindi consiglio a tutti di andarli a vedere e di ascoltare specialmente ultima parola che è un singolo bellissimo. Vi aspettiamo. Ciao grazie a te. Grazie a te. Un abbraccio. Salutami tutti. Grazie.